Martina Bestagno, capitana, alla centro e questa è la mia quarta stagione alla Reier. La passione è nata perché mio papà, mia mamma e mia sorella giocavano a basket, quindi cosa potevo fare? Mi sono avvicinata al basket quando avevo 7 anni e ho capito che questa poteva diventare la mia professione ai 13 anni quando sono andata a giocare alla Spezia in A1. Il basket significa passione, sacrificio e divertimento. Trovo alcune difficoltà perché il mondo è ancora molto maschilista ma io e le mie compagne cerchiamo di essere promotrici di un'idea che la donna debba essere comunque giudicata per le sue qualità e non per il suo genere. Far parte di una squadra per me vuol dire far parte di una seconda famiglia dove bisogna darsi appoggio e a volte bisogna volersi bene incondizionatamente. La soddisfazione più grande è stata raggiungere la finale di Euro Cup contro il Galatasaray, giocare a Istanbul, abbiamo fatto il record di presenze per una partita di basket femminile in Europa, è stata un'atmosfera fantastica. Le sconfitte le affronto arrabbiandomi ma mi do una regola, ci penso fino alla mezzanotte e poi da mezzanotte 0-1 e un altro giorno. Tengo alta la motivazione cercando di allenarmi bene e penso sempre che debba dare il mio 100%. Perciò 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 Perciò